Sono circa 5.000 giovani colombiani arrivati a Panama per partecipare alle giornate mondiali della gioventù che dal 23 gennaio vedranno anche la partecipazione di Papa Francesco nel paese centroamericano. Arrivano con speranze e anche con la preoccupazione di un processo di pace, quello tra il governo e le FARC, che nel loro paese subisce continue battute del resto. E' una esperienza di fede, di vita, veramente gratificante e molto contento con tutto lo che abbiamo vivido e expectante con lo che siamo vivi in i prossimi giorni. Desafortunatamente nel paese stanno passando cose non molto positivi, il processo di pace. Nel nostro paese la speranza è di andare avanti, che abbiamo un futuro, perché ultimamente si hanno visto molti attenzioni, lastimosamente hace pochi giorni murieron molte persone in un attenzione terrorista di un collegio di polizia, però in realtà erano persone molto giovani che non riuscarono a sperimentare nulla di loro vita e la speranza di nostri giovani colombiani è solo salire avanti. Noi vogliamo avere una vita. Non è la prima volta che ho vedo al Papa, perché già ho avuto a Colombia una volta, però spero questa volta sì poter verlo más cerca, perché in quella evacuazione non ho avuto l'opportunità.